Non è obbligatorio. No, è troppo. La legge è stipulata per il diritto di trattamento medico. Dentro di facilità, circa il clinico, ha incontrato con lui. Ha incontrato con lui. Ha incontrato in diversi paesi. Ha incontrato in Colombia, l'America e l'Ulanda. Ha incontrato 3-5 bianche di quello che non paga, per esempio, in un paese, di questa maniera corso, che è stato automaticamente per portare a cuore, ci sono entrati, ci sono entrati 1.000 e 1.200 pacienti che sono arrivati nel ultimo anno per l'exteriore. Ci sono garantizzati il cuore. Qui conosci? Vieni qui, a la vostra domanda, chi è deciso di essere? In primo, ora un specialista ha fatto un petizione che propone il desiderio della clinica che è la migliore per il paziente. Di questo, non è un specialista che si è arrivato per l'altura della clinica che ha incontrato con lui. Anche, la clinica è offerta un specialista per il passaggio che ha incontrato per la clinica per la clinica che ha incontrato una grande quantità di paziente per la clinica 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 che ha incontrato con le qualità di paziente per la clinica che si è necessario per la clinica per la clinica per la clinica per la clinica che si è necessario per la clinica per la clinica tra un'azienda della clinica per la clinica di comissione per la clinica per la clinica Anche la comissione qui è un'unico che dà un consello per fare. Es decir, la comissione è un consello per andare, per esempio, in Holanda, in Erasmus Università, nel centro del Medi Centro, e ora è un consello finalmente per decidire che ci sia un consello qui o no. Il 99% di questo caso è qui è assinato. Noi, secondo la comissione, per la comissione qui, c'è un medicamento di questa comissione. Quindi, chi è meglio sapere, con un medicamento specialista, per evaluare il caso, se sapere che ci sia un luogo in Aruba, qual è un'obligazione che ci sia, che ci sia fuori dell'elemento, che ci sia un'elemento, che ci sia un'elemento, che ci sia un testo, che ci sia un'elemento in Aruba, che ci sia un'elemento, che ci sia un consello, che ci sia un consello. a che ci sia un'elemento che ci sia un'elemento, che ci sia un'elemento, su per esempio, che ci sia un'elemento in Aruba. l'ambulanza, ora posso attendere un'hende tabai sali qua l'ambulanza via ASAT e sai nang tabai via nos sistema di servizio on call